Un altro aspetto chiave per la competitività dell'azienda è la sostenibilità. Questa innovazione che in apparenza pare minima consente in realtà di abbattere gli scarti di materiale, riduce, elimina sul lato sinistro la cosiddetta falsa cimossa, il che si traduce in un minore utilizzo di materie prime, di acqua e di elettricità. Ogni anno si risparmiano 2000 euro per telaio, 20 milioni di litri d'acqua, l'equivalente di una tonnellata di cotone, il che rende questa innovazione appetibile sul mercato. Quanto pesa la sostenibilità nella vostra traiettoria di ricerca? È fondamentale, il telaio è un prodotto globale, quindi diventa una responsabilità e un obiettivo globale quello del risparmio, dell'impatto sull'ambiente e del migliorare le condizioni di utilizzo a preservare tutti gli elementi di consumo che governano il funzionamento della macchina e la sua produttività. Questo è un risultato della vostra attività di ricerca interna? Sicuramente sì, iSaver è nato nel nostro incubatore di innovazione, è stata una scommessa e il mercato è rimasto veramente colpito anche dell'immediatezza dei dati e dei risultati che si sono potuti trarre da questa applicazione. Teniamo conto che il suo primo campo di applicazione è il denim, che è un prodotto di larghissimo utilizzo, di larghissima producibilità e quindi di grosso impatto in termini di efficientamento di tutti i fattori che concorrono e impattano sulla produzione di questo tipo di prodotto. Grazie. Grazie a tutti.